Buongiorno a tutti e ben ritrovati, oggi andiamo a vedere un primo esercizio molto semplice col trasduttore di temperatura integrato, l'LM35, uno dei due che si utilizzano non solo a scopo didattico ma generalmente, almeno per quanto mi riguarda, l'interesse è a scopo didattico. Per quanto riguarda questo integrato, ho già spiegato come funziona nel video di teoria del quale vi lascio il link in alto a destra, in modo da potervelo riguardare, è un trasduttore di temperatura integrato che si trova con questo tipo di case, quindi tre piedini classici ed ha un'uscita in tensione, ha la particolarità di avere un range di tensione di alimentazione che va da 4 volt a 30 volt, il che ci permette di sfruttare l'alimentazione di eventualmente altre cose che abbiamo nel circuito. La sua caratteristica di trasferimento, quindi la tensione di uscita varierà di 10 millivolt in funzione della temperatura in gradi centigradi e il range di funzionamento di temperatura va da meno 55 a più 150 gradi centigradi, gradi celsius. Cambia solo la configurazione che però andiamo a vedere poi in un altro esercizio se le temperature da misurare sono tutte positive oppure dobbiamo misurare temperature positive negative, quindi cambia un pochettino la tipologia poi di quello che sta a valle dell'integrato. Bene, qui semplicemente vogliamo vedere che cosa succede, abbiamo detto che l'uscita è di tipo un'uscita in tensione, quindi come varia la tensione di uscita che andremo a prendere nel piedino centrale qua, gli altri sono uno collegato alla VCC e l'altro a massa, viene utilizzato questo integrato per misurare una temperatura variabile nel range meno 30 più 50, si vuole conoscere il range di uscita del trasduttore. Bene, vediamo tra un attimo come svolgerlo insieme. Bene, vediamo insieme come risolverlo, in realtà sono proprio pochi passaggi però concettualmente da dove si inizia per poter fare un esercizio dove poi andare avanti con eventuale condizionamento del segnale. Allora, prima di tutto andiamo a vedere la temperatura, quindi il primo intervallo di temperatura, quindi la T minima, che è meno 30, che cosa produce come uscita. Abbiamo già, allora, Vout minima, sarà semplicemente il valore della funzione di trasferimento, quindi 10 millivolt fratto gradi Celsius per la temperatura in gradi Celsius, quindi sarà per meno 30 e quindi avremo meno 300 millivolt. Poi andiamo a fare T massima con la stessa, esattamente con la stessa funzione di trasferimento e andiamo a vedere che cosa succede al mio valore di Vout massimo. Avremo stessa cosa qua, per 50, quindi in questo caso è estremamente semplice, basta semplicemente moltiplicare per la temperatura importante che sia appunto in gradi centigradi, quindi qua avremo 500 millivolt. quindi se vogliamo andare a rappresentare in modo, insomma, un pochino più, ecco, un pochino un po' più significativo per il discorso della risoluzione del nostro esercizio, possiamo tranquillamente fare una cosa di questo tipo, dove qui avremo il nostro LM35 e entra una T con un range da meno 30 a più 50, ma poi vabbè, in realtà sarebbe da mettere in questo modo il range, poi non mi ricordo più come si fa il simbolo, non ho voglia di andare a cercarlo, quindi... invece in uscita abbiamo la Vout nel range meno 300 millivolt più 500 millivolt e quindi questo ha tutto qua, niente di particolarmente difficoltoso, quindi andare semplicemente a ricordarsi che questa è la conversione che abbiamo tra temperatura e tensione di uscita dell'LM35. Andiamo anche a vedere sul grafico dove è che si muove il nostro punto di lavoro, quindi questo è il grafico della tensione di uscita in funzione della temperatura, vedete che il più 50, 500 lo abbiamo già nella scala, invece il meno 30 con il meno 300 rimane più o meno a questo punto e quindi avrò un'escursione, un range di temperatura e di tensione che si muove su questa retta. Bene, spero sia tutto chiaro, fatemelo sapere nei commenti, ci vediamo al prossimo video dove andremo a vedere invece il circuito di condizionamento, quindi un esercizio un pochino più, leggermente più strutturato. Alla prossima, ciao ciao!